Stragi in Pakistan, almeno 20 militari sono morti, oltre una trentina di persone, tra cui civili, sono rimaste ferite dall'esplosione di una bomba piazzata contro un convoglio. Secondo i soccorritori, il numero delle vittime potrebbe crescere. L'attacco che ha investito in particolare un veicolo dell'esercito è venuto a Bannu, nella provincia nord-occidentale del paese, vicino al confine afgano. Le forze di sicurezza stanno indagando sull'attentato, anche se l'azione è stata rivendicata, con una telefonata dai Taliban pakistani.